Sì, siamo tutti indietro inizia a dare tutto indietro che lo rallenti aggancia, 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 non scartare, aggancia e allora qua il comando roccia salia tutti di là con più corrente qua ci rovesciavamo così dagli ordini, l'equipaggio non ha ordini e cambia angolo, cosa vuoi fare, avanti o indietro? Roccia! Roccia! Il comando roccia lo dà la guida se no andiamo in confusione però la guida si deve ricordarsi di darlo se andiamo di traverso contro un sasso, un ostacolo bisogna ricordarsi di dare il comando roccia grazie a tutti grazie a tutti